La mia vita è un esatto disastro. Un caso che ha dell'incredibile è quello della signora Giuliana Donato Lussi che ci ha aperto le porte della sua casa per raccontarci la sua storia e per chiederci aiuto. Una vita difficile la sua da quando 17 anni fa ha subito una violenta aggressione familiare che le ha causato un'invalidità irreversibile. Dopo le incessanti visite mediche, complicato iter burocratico, le viene assegnata una percentuale di invalidità dell'85%. Di conseguenza la signora Giuliana decide di partecipare ad un concorso per invalidi civili così da poter lavorare e quindi avere una vita normale. Dopo aver vinto il concorso effettua una nuova visita a seguito della quale la sua percentuale di invalidità viene ridotta al 70% nonostante la documentazione dell'Inps attesti un aggravamento fisico. Oggi la signora continua a vivere nel medesimo appartamento in cui ha subito la violenta aggressione un alloggio in piazzale Giarizzole di proprietà dell'Ater. Ho fatto un regolare concorso, non domanda, perché domanda è domanda, concorso per cambiogliaggio per invalidi civili, gravi, maliati gravi e tutte le varie, no? Bene, da ventiduesima della prima graduatoria dopo cinque anni sono undicesima, quindi io non vedrò mai più una casa per invalidi. Va sottolineato che l'appartamento presenta caratteristiche strutturali non idonee ad accogliere un invalido civile. Lo stabile non è dotato di ascensore e le dimensioni delle porte interne sono troppo ridotte. Elemento non secondario, posto che a breve la signora dovrà subire un intervento alla schiena, che la costringerà su una sedia a rotelle per un periodo ad oggi non definibile, forse anche per sempre. Come se non bastasse, dal primo gennaio l'importo dell'affitto è triplicato e di conseguenza la signora Giuliana evidenzia come per lei sarà ora molto più difficile far fronte a questa spesa, in passato sempre onorata regolarmente. Poi mi arriva adesso anche per esempio dal 2006 al 2012, esattamente quando ho iniziato a lavorare, che devo pagare l'immondizia. Però dal 2006 al 2012 io ero indigente, oltre che invalida. Io chiedo una cosa più equa, una chiarezza sugli IMSS che non ha mai mai mostrato. Chiedo giustizia.